bentornati oggi voglio farvi vedere un trucchetto per convertire le immagini che vengono dal nostro iphone convertirla in jpeg per gli usi più comuni fino a un po di tempo fa quando mi capitava di scattare una singola foto l'aprivo in photoshop e la salvavo semplicemente ora se dovessi farlo su un gruppo numeroso di foto la cosa diventerebbe quanto meno seccante per fortuna ho scoperto che aprendo tutte le immagini desiderate con anteprima si può andare a cliccare su un'immagine cliccare command a per selezionarle tutte a quel punto si può fare esporta immagini selezionate ma così le sto salvando col formato nativo vado da allora ad aprire opzioni e qui posso selezionare jpeg e qualità massima e così lui mi converte tutte queste immagini da questo formato al formato classico jpeg a me questo trucchetto sta facendo risparmiare un bel po di tempo spero sia utile anche a voi